Se doveste vendere le vostre proprietà, c'è un ottimo e fidato cliente pronto a soddisfare tutte le vostre richieste e incontanti. Dobbiamo cambiare questo paese di case fatute, modernizzarlo, creare industrie, diversi soldi. Perché non pensate a portare l'acqua nelle case invece di prendervi casa mia? Poteglielo capire voi a vostra madre. Noi qui facciamo come ci pare, apriamo, chiudiamo, è roba nostra. Lì dentro non deve entrare più nessuno. Rinaldo, Orlando e Angelica, un trio perfetto, tutti fatti a mano. La desire d'amore e la portafortuna. Ti ho detto che non deve entrare nessuno, nessuno! Cadde? Tutta forza. Ma che fai? Respira. Meraviglia di Dio. Perverti, cammina. Oh, Rinaldo, lascia il tuo pensiero bellicoso all'amore. L'avranno detto di non fidarmi di voi terroni. Lo posso considerare un amico? Perché l'uomo si è dimenticato dell'uomo. 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 L'uomo si è dimenticato. Grazie.